E' il gomane ma... vieni qua, vieni qua, non la scambi, dai, vieni qua, dai, vieni qua, vieni qua, dobbiamo fare una foto, perché dai, su, su, le farò la prima per a consigliere, ma e comunque da solo, ti voglio, vieni qua, preside, vieni qua, preside, dai, dai, vado io, ah, non lo vengo io, fa la foto qua, che? e ti dico solo una cosa e questo questo credo è parte della tua vita, però davvero hai tanti amici e tante persone che ti sono vicine lo diciamo prima che penso, quando lo vedo mi preoccupo, ma poi alla fine tutti ti dicono di sì, c'è qualcuno che riesce a dire di no Giuliano? ma io sarei nessuno io le ricordate sono le spalle che ho un terzo e poi no, e poi la mattina è quella cosa, beh insomma anche stasera credo sia davvero anche per tante difficoltà sono molto arrabbiato stavattina stavattina il sindaco un'altra ha detto sì, sì, ci sono, poi non c'era tante persone ieri ha detto che non c'erano e allora sono tutto arrabbiato ma quando è arrabbiato? il sindaco di Firenze ha mandato me come sostituto ah ecco qua, allora allora prego no, vorrei precisare che il sindaco di Firenze non è venuto per andare a moglie all'ospedale e ha mandato me a rappresentare l'organizzazione di Firenze ah ecco qua non è mai che ha problemi non è mai avuto mancare ma purtroppo la moglie all'ospedale è venuta per la patrimonio ah ecco allora eh scusate, un applauso di buongiorno naturalmente anche non è meglio perché l'anno scorso l'ho visto molto l'entusiasmo e l'ho visto che allora non è arrivata la comunicazione ma allora è importante che questo vuol dire che comunque il parco di Firenze è importante anche per i comuni in cui assente ci troviamo d'accordo per il taglio della torta e naturalmente così in questa parte concursionale della serata di questa festa del parco di Firenze la moglie del parco di Firenze da 40 anni di Sella per il tipo già lo vi ho conosciato